Siamo arrivati in situazione molto instabile, piogge a tratti qua e là, prevalentemente sull'area del centro nord Italia, con temporali anche di forte intensità. Poi venerdì arriva un nuovo peggioramento, una nuova perturbazione, raggiungerà l'Italia. Vediamo il dettaglio con le grafiche, lo facciamo iniziando dalla sinottica per seguire l'evoluzione del tempo. E allora la vedete colorata di azzurro, la pioggia che sta lasciando l'Italia e procede verso est, verso la penisola balcanica, ma che porterà ancora qualche fastidio qua e là. Come vedete appunto sulle aree appenniniche centrali, sull'arco alpino e prealpino, sul nord est e anche sul settore tirrenico, basso e medio. Alle mie spalle invece una nuova perturbazione che raggiungerà l'Italia. Ecco le grafiche, subito il dettaglio, lo facciamo iniziando dal centro nord Italia. Nella giornata di giovedì vedete ancora maltempo diffuso, saranno piogge a tratti, le temperature in lieve calo, poi venerdì il deciso peggioramento, torna il maltempo a farci compagnia. Ma sarà davvero veloce perché poi sabato andrà a migliorare con le piogge residue sul versante adriatico e sul nord est Italia. Sabato sicuramente migliora ovunque con schiarite. Giovedì sulle aree del sud Italia, qualche pioggia, qualche fastidio, solo ed esclusivamente sulla Calabria, ma un contesto praticamente soleggiato ovunque. Venerdì peggiora sulla Sardegna, sulla Campania e nuovamente sulla Calabria. Poi la perturbazione si sposta sulle peninsulari con maltempo, piogge e temporali, intensificazione dei venti e calo delle temperature. Anche qui andrà a migliorare nella giornata di domenica. Per il momento è tutto, più tardi per il nuovo aggiornamento. Grazie a tutti.